Grave lutto nel mondo del calcio. Infatti dopo il dramma vissuto da Davide Astori di qualche settimana fa è morto Bruno Boban. Aveva solo 25 anni d'età, era attaccante del Marsonia e è crollato in campo durante la partita contro il Posega Slavonia nella terza categoria croata. Le immagini sono davvero traumatiche, infatti fanno vedere l'uomo che crolla in campo e la vicenda assomiglia in modo molto elevato a quella che coinvolse il povero Pier Mario Morisini. Questa volta però in Croazia, stessa scena, stesso ambito sportivo, il gioco calcio. Il ragazzo purtroppo non ce l'ha fatta, crolla in campo e muore. Le immagini sono veramente crude e ci fanno rendere conto di come la vita possa essere davvero un soffio e in un momento e da un momento all'altro possiamo davvero perdere la esistenza. L'arbitro ovviamente ha richiamato i soccorsi medici, mentre i compagni e gli avversari erano con le mani nei capelli. A Bobana è stato praticato, subito un messaggio cardiaco a mano, poi è arrivato il turno di una ambulanza. I soccorsi sono durati 45 minuti, ma nulla c'era da fare, l'uomo purtroppo era morto. Ti ringrazio per l'ascolto, il video termina qua e posso solamente aggiungere per quanto riguarda la vicenda di quest'uomo che era giovane ed era anche un grande talento. Bruno Boban, riposi in pace, Amen.